Abbiamo però un altro elemento che effettivamente contribuisce a rendere a tinte forti la politica italiana. Nei talk show ormai la battaglia è continua e c'è chi in quest'ultima settimana di battaglia si è distinto. No, lui non è libero, lei è schiavo, molto più schiavo di quanto sono io. Che i programmi di informazione si trasformino spesso in reality, anzi meglio in railiti, visto che il palcoscenico tante volte è proprio quello della tv pubblica, per il telespettatore italiano è ormai diventata un'incombente certezza. I maligni editrologi dicono sempre che è tutto finto, tutto studiato, tutto in funzione di questi benedetti ascolti. Sarà anche vero per carità, ma se di interpretazioni si trattasse sul serio sarebbero proprio degne di ben più prestigiosi palcoscenici, con vertiginoso sfoggio di fantasia. Prendiamo Daniela Santanchè, per esempio, neospecialista in saluti fuori ordinanza, in trasmissioni RAI, prima da Santoro, ad Annozero, poi ad Agorà. Un 1-2 tanto ravvicinato non lo si era forse mai visto. Due stili, due comportamenti che più diversi non si potrebbero davvero immaginare. C'è il modello da sera, discreto e raffinato, degno di un film di Antonioni. Da Santoro su RAI 2 lei prende e se ne va, quasi alla fine, dietro i titoli di coda, senza che nessuno se ne accorga. Mentre sulla più impertinente RAI 3, Davianello va in scena il modello di urno, che si direbbe ispirato alla più sguaiata commediaccia all'italiano. Il giornalista, davvero, il sottosegretario, questo è un programma dove tutti i giorni vengono esponenti. E' una vergogna, come voi, costruite il programma. Mi perdoni, sottosegretario. Che i due fatti siano stati frutto dell'improvvisazione ad un'attuazione del programma, lei ne è sempre in fondo il sottosegretario, che a confondere i nervi abbiano aiutato la presenza di un'autorità in materia come Mughini o il nome stesso del programma, Agora, non sapremmo. Ma di sicuro le interpretazioni, anzi in italiano alla moda le performance, non potevano non destare, come dire, un vivo interesse. A cominciare dalla Littizzetto, cui la doppia uscita scritta e interpretata dall'onorevole Santanchè deve essere piaciuta tanto, tanto, quasi da scivolarci sopra, almeno in fatto di eleganza. Non credo l'ora che vada da Mentana a fare il dito medio, poi esce, come l'ispettore è chiuso. Ma scusami, eh. Ecco, il dito medio no, però era giusto invitare Daniela Santanchè. Buonasera, che è un nuovo tipo di lotta nei talk show? No, non è assolutamente nessuna lotta, ma non è neanche però prestarsi a delle mistificazioni, prestarsi alla manipolazione della verità, soprattutto quando si è in minoranza. Perché lei, direttore, non sarà sfuggito che io non dico che nessuno deve essere di parte, anzi io sono contro quelle parti che si spendono sbagliando. Però ho quell'equilibrio che è assolutamente mancato, sia da Santoro, basta vedere i partecipanti e la loro appartenenza partitica o politica, sia quella trasmissione di Agorà, dove mi sembrava veramente che è meglio lasciarli da soli. Perché così se la cantano e se la suonano e fanno le parti in commedia di una commedia che proprio il suo telegiornale stasera ha fatto già evincere, che forse è una farsa. Senta, le devo fare una domanda che mi ripromettevo di farle da tempo. E se non ci fosse tutto il turbine del Ruby Gate, lei qualcosa direbbe a Berlusconi riguardo alle sue scelte private? Visto che la prima volta che io la intervistai in tempi non sospetti, e poi l'è stato più volte rimproverato ovviamente nella polemica politica, e lei ebbe a dire delle cose su come Berlusconi tratta le donne anche in politica e molto molto corrosive. No, guardi, io a Silvio Berlusconi, ma glielo ho già detto, e quindi credo di avere quel coraggio che contraddistingue, voglio dire, in tutto ciò che faccio. Che il Presidente Berlusconi deve sapere che ha molti nemici, che è una parte politica dove non ci sono contenuti di un progetto paese, e quindi una volta ci prova con la mafia, perché sappiamo bene l'ipotesi del Berlusconi mafioso, un'altra volta ci prova con la corruzione, e sappiamo poi come è andata a finire anche quando la procura di Milano, che certamente non è super parte, sconsegnò l'avviso di garanzia in quell'importante vertice internazionale a Napoli, e poi è stato assolto. Poi adesso ci prova con le prostitute e soprattutto non ci riesce, quindi io il consiglio che darei è che capisco che non vogliamo trasformare per i nostri figli la vita degli altri, come il film dove tutti erano spiati, e tutti erano seguiti, e tutti erano controllati. Però visto che la cattiveria in questo mondo è tanta, e conoscendo, presumo abbastanza bene il presidente Berlusconi, che non deve porgere la guancia, anche se lui non fa niente di male, perché non spende, come faceva Marazzo, i soldi pubblici per il godimento sessuale, ma semmai regala, e quindi con i soldi propri che si è costruito. Non voglio dirle che è tutt'altro che provato che Marazzo usasse i soldi pubblici. Beh, insomma, questo... Beh, no, no, io non lo so se provato. Visto che lei è garantista con Berlusconi, è giusto esserlo con tutti anche gli altri. No, io mi riferisco a quelle sentenze che in questi giorni leggiamo sui giornali per il presidente Berlusconi, perché comunque per una certa stampa, una certa televisione, è già colpevole. Capisce che stasera sentire la Macri, che viene portata come la Madonna, che dice la verità assoluta, stasera mi sembra che nel suo telegiornale aveva detto, no, mi sbaglio, no, Rubi non c'era. E allora prima di dare sentenze... Lei ha ragione, e come vede in questo telegiornale dice, anche sentire l'Elemora che dice che è tutto bene, poi nelle intercettazioni si esprime, appunto, invita la bonasia a andare vestita da infermiera, le verità sono sempre doppie, no? Non solo quelle che convengono. Io vorrei che non ci fosse l'Elemora, con tutto il rispetto per l'Elemora, a difendere il presidente Berlusconi. Vorrei che il presidente Berlusconi non avesse bisogno di difese, perché non ne ha nei comportamenti veri, li ha per i comportamenti immediatici. Da donna ad un uomo come Silvio Berlusconi consiglierei, proprio per non porgere il fianco e perché so il rispetto... Meno mora e forse anche meno more. Come? Meno mora ma anche meno more forse. No, lei la mette sul ridere, invece non c'è mica tanto da ridere, sa? Perché qua, quando si sputtana un paese come l'Italia, al quale come lei, come me, come tutti gli italiani, teniamo moltissimo nel resto del mondo, perché il problema non è tanto poi la stampa domestica, che è pessima in maggior parte, ma la stampa internazionale, dove noi abbiamo un'eccellenza della nostra patria, della nostra redazione sputtanata su tutti i giornali internazionali perdente. Però, lei mi scusi, io la reinvito sicuramente, come lei sa, l'ho già invitata tante volte, però ci sfugge il tempo, purtroppo abbiamo superato le otto e mezzo e c'è un programma che si chiama così e inizierà più tardi. Intanto la ringrazio per questa sera. Posso salutare la Litizzetto? Sì, però senza medio, per favore. No, le vogliamo far vedere questo anello che ho sul dito e che magari così io lo faccio notare. La prego, in medio, stat Virtus, ma non in questo caso. No, era un anello. Grazie, grazie a Daniela Santanchè, ci fermiamo.